. Buonasera, e un grazie particolare alla Fondazione ZOE per questo invito, di cui mi sento davvero onorato. Bene, di cos'è che vi devo parlare? Ah sì, ok, allenare la mente. no, a volte, qualche volta capita. Beh, allenare la mente è un argomento abbastanza nuovo, recente, ma pensiamo fino a 30, 40, 50 anni fa non si parlava di questo argomento, non era necessario, no? Adesso invece sembra che ci sia molta attenzione rispetto a questo tema, perché la vita media si è allungata, perché abbiamo una prospettiva di vita molto più estesa. Ma qual è il progetto biologico? Quanto può vivere un essere umano? Qual è l'età che può raggiungere? 120! Magari anche di più. Beh, vi presento l'esemplare della specie umana che ha vissuto di più in assoluto. La signora Jean-Louis Calman, 122 anni, 164 giorni. La signora Calman aveva la particolarità di essere lucida. Era lucida. Cioè lei ragionava, parlava, faceva tutto quello che fa una persona anche di 70 anni. Pensate che arrivavano da tutto il mondo i ricercatori per chiederle come facesse a vivere così a lungo e lei parlava, si raccontava. Bene, questo esercizio che lei faceva ha fatto sì che alla risonanza magnetica le aree deputate al linguaggio fossero paragonabili a quelle di una persona di 70 anni. Cioè il fatto di aver mantenuto sempre la parola, l'attività linguistica ha fatto sì che le aree del cervello fossero paragonate a quelle di una persona molto più giovane. Beh, anche il ciclo di vita è cambiato, no? Si riteneva fino a qualche tempo fa che la vita fosse una sorta di curva campana. Si nasceva, si cresceva, si lavorava e tutto quanto e poi a un certo punto si decadeva. E quindi c'era il ritiro sociale con tutto ciò che comportava. Bene, questo atteggiamento nei confronti del ciclo di vita è cambiato. Adesso la vita è considerata una crescita continua e quella che viene definita la terza età, che adesso è a 75 anni, è vissuta come un'opportunità, un'opportunità di poter fare ciò che non si è fatto nei tempi in cui si lavorava, si era impegnati, si aveva meno tempo a disposizione. E quindi l'opportunità di avere più tempo libero ci consente anche di fare, di intrattenerci nelle passioni che ci piacciono e che vogliamo coltivare. Ma pensiamoci un attimo, ciò che ci interessa, ciò che ci piace fare, il più delle volte richiede una buona mente, una mente lucida. Più di avere delle gambe sane, quello che è importante è poter seguire un discorso. Perché? Perché quello che facciamo magari è leggere, piuttosto che andare ad una conferenza, andare a teatro, viaggiare, parlare con le altre persone. Tutto ciò richiede che gli strumenti nella nostra mente siano in buono stato d'uso. Quindi dobbiamo avere una buona memoria, dobbiamo avere una buona attenzione, una buona concentrazione. Tutto ciò che serve per essere efficienti quando facciamo ciò che ci piace fare. Le cose che ci piace svolgere sono prevalentemente, richiedono prevalentemente l'impegno della nostra mente. Per qualche minuto ho bisogno di portarvi con me in un brevissimo viaggio all'interno del nostro cervello. So che ne avete parlato, ma mi serve raccordarmi con questo discorso e dirvi che cosa c'è dentro la nostra testa e che cosa ci consente di fare tutto ciò che siamo in grado di fare. Allora, abbiamo circa 100 miliardi di neuroni, ogni neurone ha questa forma strana, un po' aliena, e la particolarità di queste cellule, che sono diverse da quelle che conosciamo, ovali, eccetera, è che hanno tutti questi rametti. Bene, attenzione perché la potenza del cervello non sta nel numero delle cellule, che abbiamo dei neuroni, perché se andiamo a vedere, di questi 100 miliardi, a partire dai 28-30 anni, ne perdiamo circa 100 mila al giorno. La potenza del cervello sta in questi rametti qua. Perché quando noi facciamo una qualsiasi attività, per esempio apprendiamo un'informazione, com'è che viene registrata all'interno della nostra mente? Viene registrata attraverso l'allungamento di questi rametti che vanno verso le altre cellule che devono ricordare quell'informazione. Quindi si crea un vero e proprio tessuto. Prendiamo il caso del mio cognome Iannoccari, che io ho scelto apposta per fare le conferenze. Il cognome Iannoccari, quando lo si sente la prima volta, oddio che cos'è! Poi man mano che si sente, c'è una certa familiarità, cioè le cellule che sono deputate a ricordare queste informazioni iniziano a tessere una trama, a scrivere questa informazione e quindi, come vedete giù in basso, si crea una rete. Una rete che ricorderà poi questo cognome. Per ricordare Iannoccari servono circa 300 neuroni. Un bell'impegno, eh? Diverso dall'avere un cognome più comodo. Bene, e tutte le informazioni che noi abbiamo, ovviamente formano un tessuto, un drappeggio molto ricco. E quanto più è ricco, tante più informazioni abbiamo, tanto più, se col tempo qualche filo viene meno, non si vede il buco. Il problema è quando questo tessuto, per pigrizia mentale, non lo abbiamo alimentato sufficientemente, col passare del tempo il buco, diciamo, si nota di più. Che cosa succede quando, col passare del tempo? Succede che, come tutto l'organismo, anche i neuroni tendono a decadere, a declinare. Per cui, un conto è avere dei neuroni così tonici, forti, che fanno bene il loro lavoro. Un conto, invece, è avere un tessuto neurale che invece decade. E purtroppo, se decade, il cervello fa fatica a lavorare. Come si vede in queste due immagini? Queste sono delle immagini di due cervelli di due persone di 72 anni, due donne coetanee, stessa scolarità, dove sulla destra c'è il cervello di una persona che è attiva, ha mantenuto sempre una certa curiosità intellettiva, che si informa, sta con le persone. Dall'altra parte, invece, c'è un cervello che purtroppo è invecchiato male e, pur avendo le due persone alla stessa età, il loro modo di pensare, il loro modo di usare la mente, è evidente e completamente diverso. Questa persona, rispetto a questa, in più ha il fatto che è attiva, si informa, legge, cerca di apprendere nuove informazioni, eccetera. Tuttavia, col passare del tempo, ovviamente, l'invecchiamento lusinga anche il nostro cervello e la nostra mente e quindi avvengono quegli acciacchi mentali. Gli acciacchi mentali, per esempio, possono essere non ricordare il nome di una persona, oppure una data, una ricorrenza, piuttosto che uscire di casa e non ricordare se ho chiuso la porta, dove ho posato il cellulare, dove ho messo gli occhiali, ho chiuso il gas, ho ancora la concentrazione. Far fatica a seguire un discorso, sto seguendo un ragionamento, a un certo punto la mia mente va per conto suo. ragionamento, faccio fatica a far, per esempio, a trarre delle conclusioni o a fare i calcoli con il resto, oppure la fluenza verbale, la parola sulla punta della lingua. Capita qualche volta? Sì? Ma noi siamo molto furbi, siamo strategici, perché che cosa facciamo quando non ci viene la parola? Cosa diciamo al posto della parola che non viene? Cosa? Coso? Senti, vedi che ha chiamato quello, che ha detto che oggi pomeriggio viene a portarti quella cosa che serve per cosare le cose. No? Cioè, fila, è lineare, funziona, ma che cosa? Quali sono i contenuti? Non si sa. La parola sulla punta della lingua. E così l'orientamento, eccetera. Insomma, tutto questo sono gli acciacchi mentali. Allora, a qualcuno capitano? Qualche volta si capita. Beh, capitano a tutte le età, eh? Capitano a 15 anni, a 20 anni, a 30, a 50, a 70, a 90. Quello che cambia è la frequenza, perché col passare del tempo aumenta di più la frequenza, è la sensibilità che noi abbiamo verso questi acciacchi. Se a 20 anni non mi viene la parola, pazienza, eh vabbè, ci rido sopra e vado avanti. A 40 anni, accidenti, non mi viene la parola. A 60 anni, che cosa mi sta succedendo? Quindi, ma questo è un bene, perché il fatto che noi siamo più sensibili a ciò che ci capita, ci consente di trovare le risposte per mantenere una buona salute. A proposito di parola sulla punta della lingua, c'è un esercizio che viene fatto, che chiede di dire in 60 secondi tutte le parole che iniziano con una lettera dell'alfabeto. Volete fare la prova? Per vedere quante parole riuscite a fare? Allora, io vi conometro, vi do 60 secondi, ciascuno di voi nella propria mente conta quante parole riesci a dire con la lettera V, d'accordo? Pronti? Con la V, la V. 60 secondi, contate quante parole riuscite a dire. Pronti? Via! Stop! Ok, avete tenuto il conto di quante parole avete detto? Benissimo. Adesso vi do anche un riscontro. Intanto vi chiedo, vi è capitato di avere dei momenti in cui non venivano le parole? Sì, sì. Sì, ok. Come avete risolto? Aspettando, cercando un po'. Ok. Avete pensato Vicenza, vero? Sì. Ah, ok. Allora, fino a qua ci siamo, andiamo bene. Se capita di avere quel vuoto, non viene la parola, può essere utile usare quello che io chiamo rastrello alfabetico. Rastrello alfabetico è semplicemente il mettere la parola dell'alfabeto dopo la lettera, quindi va, ve, vi, vo, vu, oppure vab, vac, vad, vae. Questa strategia può essere utile anche quando non viene il nome che vorremmo ricordare, non so se vi capita un nome di una città che abbiamo visto, di una persona, e non viene. Solitamente possono passare anche 48 ore senza che questo si affaccia alla nostra mente. Bene, per ridurre il tempo, se si ha voglia, si può fare il rastrello alfabetico. Più o meno si fa con la A, con la B, con la C. Insomma, in dieci minuti si riesce a recuperare la parola. È impegnativo, è, diciamo, è uno sforzo, però se ci si vuole cimentare, si può usare il rastrello alfabetico per recuperare la parola. Così almeno non arriva, poi di notte, quando non ci serve niente, diciamo, accidenti, eccolo là. Bene, allora, in base alle fasce di età, ci si aspetta che una persona possa dire questo numero di parole in 60 secondi, per cui nella fascia 50-55 avreste dovuto contare almeno 22 parole. Allora, quelli che hanno meno di 50 anni, qualcosa in più, si arriva pure fino a 28-30. Da 56 a 50, 21, 22, 61, 65, 19, 66, 70, quasi 18, 71, 75, 14, 76, 80, 12, e poi a salire qualcuno in meno. Ci siete? Vi trovate con i conti? Probabilmente avete anche fatto di più. Beh, intanto spero che nessuno abbia notato che nella tabella c'è differenza tra maschi e femmine. Perché non vorrei entrare in questi argomenti. Quello che mi interessa invece farvi notare è come col passare dei lustri decade la nostra capacità di prendere le parole. Eppure ce le abbiamo, così come ce le abbiamo a 50 anni, ce le abbiamo anche a 80 anni. Eppure cambia il numero delle parole che riusciamo a prendere, a prelevare dal nostro magazzino lessicale. La stessa cosa succede per esempio anche con le notizie, con i fatti, con le cose che ascoltiamo, che leggiamo. Anche qui abbiamo una caduta in base agli anni che passano. Su un brano dove mediamente ci sono 30 informazioni da ricordare, le persone over 50 ne ricordano mediamente 17 su 30. Man mano che passa il tempo scende il numero di elementi ricordati fino ad arrivare a circa 6 parole su 30 che devono essere ricordate. Il brano può essere banalmente anche quello che io vi sto raccontando. Ci sono delle informazioni chiave che ciascuno di voi potrebbe ricordare per farsi un quadro di quello che stiamo raccontando, di quello che stiamo dicendo. Bene, man mano che passa il tempo gli elementi che vengono incasellati in un quadro generale diminuiscono. Allora, un conto è se io ho a che fare con 17 parole su 30 riesco a ricostruire molto bene quello che è l'argomento. Se ho a che fare con 7 parole su 30 faccio un po' di fatica, ma non voglio spaventarvi perché poi ci sono le buone notizie. Adesso intanto vi dico com'è. E anche qui vedete che man mano che passano i quinquenni diminuisce. È un invecchiamento fisiologico, non c'è niente di particolare se non il fatto che il tempo passa. Così come i capelli diventano argentati, anche le altre facoltà cambiano. Qual è la conseguenza di tutto ciò? La conseguenza è una conseguenza anche che ha un impatto sugli stili di vita, perché se io davanti ad un compito non riesco ad affrontarlo adeguatamente, perché se ricordo 7 parole su 30 e qualcuno mi chiede che cosa ha detto quel prof dal cognome strano alla conferenza, io dirò, senti lasciami stare che adesso non ho tempo. E questo è un insuccesso, io lo percepisco come un insuccesso e mi crea frustrazione, perché io ho capito perfettamente che cosa ha detto, ma non riesco a ricostruire tutto l'argomento. E che cosa succede? Che mi ritiro. Cioè dico che non mi interessa. E quello che succede quando magari dobbiamo affrontare una nuova tecnologia e diciamo, no, ma a me non interessa lo smartphone, a me il telefono serve per chiamare e ricevere. È legittimo, è legittimo che a me non interessi qualcosa, ma attenzione, perché a volte potrebbe essere un alibi. E se è un alibi, allora questo non va bene perché creiamo un circolo vizioso dove meno riesco a fare e meno faccio, perché per non provare frustrazione non mi impegno, ma per il cervello vale il principio che ciò che non si usa si perde. Il cervello non conserva niente, l'inflazione mentale è galoppante, che qualsiasi somma noi mettiamo da parte ce la mangia, ce la logora. Se io oggi so fare di conto, so fare le operazioni mentali, e ho un livello 10, ma non lo faccio perché uso la calcolatrice, quella capacità col tempo diventa 9, 8, 5, 4, perché il cervello non la conserva quell'aria. La natura dice non ti interessa, siccome il cervello da solo consume il 20% di tutto, dice se non ti interessa do le mie risorse ad altre aree. e questo l'aveva già capito lui, lo riconoscete? Chi è? L'avete letto, eh? Già 500 anni fa lui diceva così, siccome il ferro arrugginisce senza uso, come l'acqua col freddo si agghiaccia, così l'ingegno senza esercizio si guasta. L'aveva già capito 500 anni fa, l'aveva già capito, ed è così. E questo è il tema del nostro incontro. Fortunatamente, dopo 500 anni, sono arrivate le neuroscienze. La riconoscete? L'avete letto, eh? Beh, la ditta Levi Montalcini è stata insignita dal premio Nobel perché ha scoperto che i neuroni, quando vengono stimolati dall'esercizio mentale, producono delle sostanze che vanno ad incrementare il volume e la tonicità dei neuroni stessi. Si autoalimentano e questo gli consente di mantenersi vivi e tonici più a lungo, lavorando meglio. Questo ha dato poi, diciamo, sviluppo al concetto di plasticità cerebrale, che significa che a qualunque età il nostro cervello è in grado di apprendere e di modificarsi a tutte le età. Va bene? Una volta si pensava che non si potesse più imparare dopo una certa età. Adesso è diverso. Avete sentito Mario Monicelli quando, qualche anno fa, a 92 anni, disse mi devo iscrivere al conservatorio perché ancora di musica non ci ho capito tanto. A 92 anni. Ma quanti di noi già molto prima abbandonerebbero l'idea con la convinzione che ormai non è più tempo? Beh, non è così. C'è sempre tempo per apprendere. Quando noi apprendiamo una nuova informazione, le cellule costruiscono dei tessuti e quindi arricchiscono quella rete che abbiamo visto prima. In qualunque momento della nostra vita noi possiamo passare da uno stato un po', diciamo, da un certo punto, da un livello 7-8, ad un livello maggiore, ad incrementare. E questo attraverso l'esercizio mentale, che i ricercatori dicono che ad ogni età della vita bisogna fare qualcosa. Tra i fattori protettivi che c'è dopo i 60 anni, insieme alle relazioni sociali e l'attività fisica, c'è l'attività mentale. C'è l'attività mentale. Quindi è un fattore protettivo. Ormai lo stanno dicendo anche simi studiosi e ricercatori. E questo è vero. Noi lo facciamo già da 15 anni attraverso programmi di allenamento mentale. L'allenamento mentale vorremmo che fosse come una palestra, che si iniziasse già da bambini. Pensate che noi stiamo formando le insegnanti delle scuole materne a far sì che le attività che loro svolgono con i bambini siano sempre delle attività ludiche, ma che loro propongano con un'ottica di training cognitivo. Cioè se il bambino oggi fa un'attività con 10 giocattoli, il giorno dopo glielo si propone con 12, poi con 13, poi con 15. E in questo modo il bambino cresce, insieme all'attività, fa crescere anche le proprie capacità cognitive. Qualcuno dice, sì, vabbè, ma io ancora sono lucido, sono attivo, sto lavorando. Beh, io sono d'accordo con quello che diceva lui. Lo riconoscete? L'avete letto? Lui diceva, il tetto va riparato quando splende il sole. Cioè non bisogna aspettare di arrivare al limite. Prima lo si fa e meglio è. Perché se io ho un'abilità 10 e la metto a frutto, questa diventa 11, 12, 15 e cresce. Se io aspetto che arrivi a 3, la faccio crescere lo stesso. Però faccio molta più fatica e i risultati saranno ben diversi. Bene, anche gli studi ormai ci dicono che sia a livello di irrorazione cerebrovascolare, sia di tessuto di materia grigia e bianca, c'è un incremento quando noi facciamo dell'esercizio mentale. E addirittura anche l'intelligenza, che si pensava prima fosse data alla nascita e basta, può essere incrementata attraverso l'esercizio mentale, attraverso l'allenamento. Soltanto una cosa è vera, che nell'invecchiamento non tutto decade, soltanto tre funzioni effettivamente si lasciano sedurre dal tempo che passa. e sono l'attenzione, col passare del tempo facciamo più fatica a rimanere concentrati su un qualcosa, siamo più distraibili, più facili distrarci. La memoria di lavoro, una memoria a breve termine, anche questa col passare del tempo si riduce e si fa fatica a ricordare le cose fatte da poco tempo, e poi anche la velocità di elaborazione delle informazioni, cioè la velocità con la quale noi facciamo un qualcosa. Queste tre sono le condizioni che davvero invecchiano, tutto il resto anche no. Noi abbiamo delle capacità che crescono col passare del tempo. Pensiamo ad esempio alla capacità di vedere un problema nel suo ordine generale. Rispetto a quando avevamo vent'anni, a 50 o a 70 noi abbiamo una visione molto più ampia del problema, abbiamo un vocabolario più ricco, abbiamo una capacità di lettura molto più ampia, più soddisfacente. Il senior ha dei vantaggi notevoli rispetto allo junior. Il guai è quando noi ci confrontiamo sul terreno dello junior. quando vengono in ambulatorio e mi dicono ma io non ho più la memoria di quando avevo vent'anni, accidenti, avessi io le gambe di quando avevo vent'anni. Però non ci si accorge che c'è un atteggiamento di magia. Va bene, ok, questo per raccontarvi che c'è un invecchiamento, ma ne avete già sentito parlare, io vi ho riportato soltanto a quello che per me serve raccontarvi rispetto all'allenamento mentale. Quindi quella stimolazione di cui vi ho parlato che va ad accrescere la rete neurale può essere fatta con degli esercizi. Avete voglia di mettervi alla prova? Non ho sentito? Sì? Sì? Va bene. Allora, vi propongo qualche esercizio che serve per stimolare diverse abilità mentali. Iniziamo con un esercizio di linguaggio. Qui abbiamo tre parole. Messo, vale, metro. Vi chiedo di trovare una parola soltanto di senso compiuto, una parola compiuta, che messa davanti a ciascuna di queste e formi tre nuove parole. Quale potrebbe essere? Di messo. Eh? E. Allora, e, messo. E, vale, e, metro. Dovrebbe essere? Una che valga per tutte e tre. Come? Mano? Mano. Mano, messo, mano, vale, manometro. Ok, ottimo. Facciamolo al contrario. Abbiamo l'ultima parte, ero. Troviamo delle parole di senso compiuto che messe insieme a ero formino delle nuove parole. Per esempio, maniero. Mani, una parola di senso compiuto, più ero, maniero. Quali potrebbero essere le parole? Destri. Destri. Destriero. Sono destri. Destriero. Straniero. Eh? Veliero. Pistola. Pistola. Beh, in English, un po' ci avviciniamo. Poi? Torero. Tor. Deve essere di senso compiuto. Tor. Pa? Sparviero. Sparvi. Ci siamo. Quasi la logica è quella. Foriero. Fori. Foriero. La verità, veliero. Veliero, sì. Strani. Straniero. Bene. Eh? Ok. Veliero, foriero, condottiero, straniero. Bene. Facciamo, invece, un riordino di queste lettere. Usiamole tutte per formare una parola di senso compiuto. Se l'avete trovata già una, ce ne sono almeno due. E vanno usate tutte, eh? Carote. Caronte. Caronte. Bene. Poi? Contare. Contare. Sì? Poi? Arconte. 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 Molto, molto ottocento. Bello. Ok. Il vaso da quente. Eh? Ce n'è ancora una? Cornate. 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 Sì. Bene. Quale? Cantore. Bene. E ancora? Cartone. 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 Benissimo. Ok. Ottimo. Ottimo. All'inizio sembra che, no? Si faccia, sia impegnativo trovarne, ma poi vediamo che ce ne sono tante. Come ve l'accavate con i nomi associati ai volti? Tremendo. Tremendo. Allora, intanto la difficoltà di ricordare i nomi associati ai volti non riguarda la memoria dei nomi, perché la memoria dei nomi noi ce l'abbiamo, cioè se volessimo ricordare i nomi ne scioriniamo tranquillamente 200 senza difficoltà. Così come un volto, noi ricordiamo se un volto l'abbiamo visto o meno, la difficoltà è collegare il nome al volto, perché è l'unica memoria che ha due aree separate che devono essere collegate. Per cui la memoria dei volti sta nel giro fusiforme da una parte, la memoria dei nomi sta da un'altra parte. Quando noi conosciamo una persona e ne ricordiamo il nome, creiamo un collegamento tra queste due aree. Attenzione, perché è normale che dopo 16 giorni possiamo non ricordare come si chiama una persona. Ok? Quindi qualcuno mi dice, ma io non ricordo più i nomi dei miei colleghi, ci ho lavorato 30 anni, da quanto tempo in pensione? Da 12. Cioè ci sta anche che i nomi, ma noi sappiamo che per poter ricordare dobbiamo dimenticare. Quindi, ma l'importanza del collegamento sta nel ripetere quel collegamento, ripensare ogni tanto alla persona che abbiamo conosciuto e come si chiama. Vi chiedo di memorizzare il volto col suo nome, perché più tardi vi chiederò come si chiama questa? Eh? Non vale. Ok? L'avete memorizzato? Allora, attenzione. Quando memorizziamo un'informazione, se ci diciamo, questa è facile la ricordo, fate scattare un campanello che vi mette in allarme, perché questo è facile, lo ricordo, è la marca della saponetta sulle quali scivola via la memoria. Questo è facile, lo ricordo. Perfetto, non va in memoria. È un po' come voler fare la pizza mettendo nel forno farina, acqua, lievito, pomodoro, mozzarella senza impastare. Le informazioni vanno impastate. Impastate intendo vanno manipolate, un po' come fanno i bambini quando a scuola giocano con i cognomi, con i nomi dei compagni per prenderli in giro. Quindi Sara, immaginate una Sara che conoscete, ad esempio, e abbinatela a questa persona. Mantelli. Cosa vi ricorda mantelli? Mantelli. Ne ha tanti, perché adesso è facile, lo leggiamo, quindi è facile, è facile. Il nostro orizzonte, quando apprendiamo un'informazione nuova, è domani. Domani ricorderò questo, allora adesso mi devo attivare per incamerare quell'informazione. Allora la devo giocare adesso. Guardando i particolari, mantelli non è un mantello, perché poi ci verrà mantello o mantella, perché è una ragazza. Mantelli è Sara con tanti mantelli che si avvolge. Ok, bene, ve la lascio lì, più tardi vi presenterò l'immagine e vi chiederò di ricordare come si chiama. Dicevo prima che una delle funzioni che decade col tempo e la velocità di elaborazione delle informazioni. Avete voglia di fare un esercizio di velocità? Ok. Vi presenterò dei quadrati colorati. Man mano che appaiono, dite il nome del colore del quadrato. Ok? Giallo. Ok. È un nero antracite ma tendente al buio. Ok? Diciamo che può essere nero. Ve li propongo un po' più velocemente. Ok? Velocità di elaborazione. Allora, adesso se appare questa freccia vuol dire che i colori sono invertiti. Quindi se dico, se appare il giallo, dite rosso. Se appare rosso, dite giallo. Se appare blu, dite verde. Se appare verde, dite blu. Se appare un colore diverso, dite bianco. Questo meccanismo di dire un colore al posto di un altro chiama in causa quelli che si chiamano meccanismi libitori. Cioè io devo bloccare un'informazione che viene spontanea per dirne un'altra. Non so se vi capita di vedere il programma preserale con Paolo Bonolis che si deve dire la parola errata. Deve essere attivato questo meccanismo che col passare del tempo si indebolisce un po'. Ok? Va bene. Allora, in velocità. Qual è la somma di questi tre numeri? Fantastico. Li memorizzate questi per favore? Ve li chiedo tra un po'. Allora, diciamoci. I numeri o sono? I numeri. I numeri. Allora, tolgo un attimo la slide. Avete usato qualche strategia per ricordarvi? Come? Come? Qual è usato? Sì? Le differenze. Le differenze. Ok. Bene. Ed è una strategia per ricordare i numeri. Poi? Immaginato le persone con l'età. Immaginato le persone con l'età. Benissimo. Ok. Quindi è una tecnica associativa. Poi? L'ordine. Sono in ordine. Perfetto. Ma come faccio io a ricordare il 18? Perché domani, il mio orizzonte è domani. Domani. Chi mi dice che ricorderò il 18 anziché il 19 o il 17? Eh? Perché il 18 è il 18? A che cosa lo agganciamo? A domani. È vero. È vero. Ottimo. Perfetto. Oppure può essere la data? Un giorno? Un numero civico? Il 25 può essere? Natale. Natale. Ecco, la tecnica associativa è molto utile e ci avvantaggia molto quando dobbiamo memorizzare delle informazioni perché le agganciamo come se fosse proprio come se ci fosse un gancio a qualcosa che ci appartiene, che conosciamo benissimo e quindi non ci sfugge. Se restano così senza un aggancio allora si potrebbe dimenticare o non ricordare esattamente se è il 67 o il 68 o qualcosa del genere. Quindi agganciate sempre l'informazione a qualcosa. E' il più semplice perché? Ok. Un aggancio che può essere utile. Allora, i numeri sono astratti ma in realtà qualunque numero può avere un aggancio. Qualunque numero può avere un aggancio. Agganciateli. Benissimo. Siete stanchi? Volete che mi fermi? Continuiamo? Ok. Comunque per comunicazione abbiamo chiuso le porte e nessuno può uscire. Allora date queste due parole. Combinandole insieme otteniamo una parola nuova. Quale potere? Quale è? Eh? Pigiama. Benissimo. Aperto e gol. Fantastico. Sovrano più ecchi. Soverchiano. Benissimo. Benissimo. Ok. Quale numero continua la serie? Cosa viene dopo il 13? Perfetto. Ogni numero è la somma dei due precedenti. Quindi 8 più 13 è 21. 5 più 8 è 13. 8 più 13 è 21. Quale lettera viene dopo il 5? Benissimo. Quindi sono 1 sì e 1 no e si alternano. E quale sarebbe il numero che viene dopo la F? 7? Scusate. È troppo facile. Ok. Va bene. Questi sono dei tipi di ragionamento. Sono dei tipi di ragionamento dove noi cerchiamo un'euristica, cioè una logica sottostante, per poi trovare la soluzione. Altre modi di ragionare sono le stime. Un'informazione che non sempre è precisa ma potrebbe essere intuita. Per esempio, quanto dista la luna dalla terra? 330.000. Quanti? 330.000. 330.000. Accidenti. Ok. Sì, sapevo un'informazione del gene sui 400.000, però ci riserviamo di contarli. Per il momento accettiamo che siano 330.000. Benissimo. Se non sappiamo l'informazione, facciamo una stima. Cioè, che cosa fa il nostro cervello? Raccoglie tutte le informazioni, tutti gli indizi che ha e si fa un'idea approssimativa. Dopodiché, dice, trova la soluzione. Ma ci sono anche dei ragionamenti che devono essere fatti su cose quotidiane. A quale categoria di animali appartiene lo struzzo? Sì? Di che tipo? È un mammifero, ma? Eh? O viparo? Perché fa le uova. Ok. È un? È un uccello. È un uccello. Ok. La balena? È un mammifero. E lo squalo? È un pesce. Benissimo. Benissimo. È un pesce. Appartenente, mi sembra, alla famiglia dell'Iassa. Alas... Alas Branchibu. Vabbè. Eh? Sei laci. Sei laci. Vi siete messi ai due lati, eh? Ok. Abbiamo una cultura stereofonica. Fantastico. Ottimo. Andiamo ad un ragionamento più spinto. Dove, insieme al ragionamento, dobbiamo fare un salto fuori dallo schema. Il cosiddetto pensiero laterale. Cioè trovare una risposta che non sia all'interno dello schema razionale. Come lo facciamo? Togliamo quattro fiammiferi in modo da ottenere tre quadrati. Attenzione perché non devono rimanere fiammiferi sparsi, penzoloni. Ok? Quali toglieremmo? Sì. In realtà è così. Qualunque altra soluzione non ci porterebbe al risultato. Per poter risolvere una questione di questo tipo è necessario uscire dallo schema e smontare la convinzione che i tre quadrati debbano essere uguali. Perché la nostra mente, vedendo questo, si condiziona e presuppone che i tre quadrati debbano essere uguali. In realtà nella consegna non l'ho detto. Ho soltanto invitato a trovare tre quadrati. Togliendo i quattro che siano questi o questi qua effettivamente otteniamo tre quadrati. Attenzione perché molte volte non è il nostro modo di ragionare ma è la nostra mente che ci tira il freno a mano e non ci fa andare avanti. Come si chiamava lei? Facile. Il prossimo anno se mi inviteranno di nuovo Ve ne faccio memorizzare cinque? Va bene, ottimo. E Sara Mandelli, fantastico. Benissimo. Mantelli. Non ce la dimenticheremo più. Domani chiamatemi. Bene. Ditemi se lo avete ricordato. E a proposito di questo, come ve la cavate con la memoria? Bene, dipende. Quale memoria? Chi sei? Allora, facciamo un esercizio di memoria. Vi invito a memorizzare tutti gli elementi contenuti in questa tabella. Lascio la tabella un minuto, dopodiché la tolgo e dirò un elemento di una colonna e voi mi direte l'elemento abbinato. Ok. Sono soltanto dieci informazioni accoppiate. Ok. Allora, è chiaro che noi queste parole le conosciamo. Non c'è dubbio. Ma nel momento in cui le avete apprese le parole sono state collegate tra di loro. Cioè, se avessimo potuto vedere ciò che succedeva nei nostri cervelli avremmo osservato che le parole si sono collegate. Le reti neurali hanno attivato dei collegamenti che prima non c'erano. Bene. Pur essendoci le informazioni, prima non c'erano. Questo è quello che succede facendo l'attività. Adesso ci siamo divertiti, abbiamo fatto dieci minuti di esercizi. Se avessimo potuto vedere cosa succedeva nel nostro cervello avremmo visto tutta una serie di attivazioni. Noi, i nostri neuroni, subito ringaluzziti, si sono messi, si sono attivati e hanno iniziato a tonificarsi, a fare ginnastica. Adesso, va bene, adesso pensate a fare un'attività quotidiana in cui facciamo degli esercizi ogni tanto dove gli esercizi vanno a coinvolgere più aree cerebrali e cosa, che beneficio potremmo ottenere dall'allenamento. Adesso vi suggerirò cinque esercizi che potete fare in qualsiasi momento della giornata, ok? Per attivare le nostre diverse aree cerebrali. La posologia è dieci minuti al giorno. Cioè, uno pensa che si debba star lì a fare gli esercizi due ore, tre ore. No, bastano dieci minuti per attivare le aree del cervello deputate a fare certi esercizi che poi loro praticamente iniziano a fare quel lavoro per tonificarsi. Così facendo, si può osservare, come abbiamo osservato noi negli studi, che le abilità possono migliorare straordinariamente a qualunque età. Questo è un campione dai 50 agli 80 anni. Le facoltà rispetto al gruppo di controllo sono cresciute enormemente. Questo è un compito di velocità, di elaborazione. Abbiamo detto che è una delle facoltà che invecchia. Abbiamo visto che il nostro gruppo ha impiegato sempre meno tempo a fare delle attività rispetto al gruppo di controllo. Così come è migliorato con un'impennata rispetto a certi compiti, diciamo diversamente invece dai propri coetanei che invece sono rimasti abbastanza stabili. E si è visto come, abbiamo parlato prima di memoria di prosa, nonostante il passare degli anni, le persone che frequentano i training di stimolazione cognitiva, la nostra ginnastica mentale, hanno praticamente mantenuto un livello di attività, nella memoria di prosa ad esempio, che ha ridotto il decadimento del 90%, per cui in pratica si sono trovati a 80 anni ad avere delle abilità pari a quelle di una persona molto più giovane di loro. Ancora più sorprendente è stata l'affluenza fonemica, cioè prendere le parole che iniziano in un certo modo. Si è visto che a dispetto del tempo che passa e logora riducere le abilità, le persone che fanno gli esercizi di stimolazione cognitiva hanno addirittura incrementato del 110% le loro funzioni mentali nell'ambito del linguaggio. In questo caso l'affluenza fonemica altro non è che il piglio, il meccanismo che prende le parole quando ci servono, evitando di dire che è un'abilità che decade. Bene, il mantenimento con la stimolazione cognitiva invece non solo non segue l'invecchiamento fisiologico, ma addirittura aumenta incredibilmente le capacità. In più, oltre a questi benefici, a me piace anche dire che i miglioramenti sono anche in termini di qualità di vita perché ci si percepisce più efficaci, quindi si scopre di avere delle capacità, si è più motivati ad affrontare quelle sfide che in un altro momento ci saremmo tirati indietro perché pensavamo di non essere in grado e anche l'autostima vediamo che cresce, cioè le persone sentono di avere una maggior fiducia in se stessi. e così, davanti ad un compito, sapendo di poter ottenere un risultato, ci mettiamo alla prova, siamo gratificati dall'aver raggiunto un risultato maggiore e questo crea un circolo virtuoso e ogni volta ci mettiamo alla prova. il meccanismo che dovrebbe innestarsi è quello di scardinare il non ce la faccio con ci provo. Quando noi ci proviamo, va bene, anche se non riusciamo a raggiungere il risultato, ma il fatto di averci provato ci consente di incrementare un po' di più quelle nostre capacità fino ad arrivare ad un livello che ci piace, soddisfacente e che ci dà un ottimo risultato. Bene, per concludere vi propongo cinque esercizi, cinque abitudini, chiamiamole così, da acquisire durante la giornata. Allora, intanto abbiamo detto che la memoria è di prosa, ricordare i fatti è una di quelle che tende a diminuire col tempo. Allora, cosa possiamo fare? Sentiamo tante informazioni durante la giornata, prendiamone una che ci piace, magari positiva, e troviamo tre persone alle quali ripetere questa notizia. Perché tre persone? Ve lo spiego. Perché la prima volta... Allora, intanto sentire o leggere non equivale a memorizzare, comprendere non equivale a memorizzare, sono due abilità diverse. Per poter memorizzare io devo fare qualcosa, devo ripetere. Quindi se io ripeto la notizia a qualcuno la prima volta sento che non sono chiaro, mi sento goffo, non riesco a ripeterla come ce l'ho in mente, eppure la so. La seconda persona invece mi ascolta e io sarò più fluente, riesco ad organizzare il discorso e a fare un filo ragionato e chiaro, e inserendo anche più dettagli rispetto alla prima volta. La terza volta, non soltanto il mio eloquio sarà fluente, ma quell'informazione la manderò nella memoria a lungo termine, il che significa una notizia al giorno per 365 giorni, beh, mi conservo tanta roba. Ok? Voi direte, ma dove le trovo tre persone? Si chiamano cavie. Trovate tre cavie. Un giorno, allora, mi chiamava sempre un mio amico, Marco. Marco mi chiama. Ciao Giuseppe, qua, là. mi raccontava sempre qualcosa il tempo e poi scivolava sempre in un racconto di un qualche fatto, no? Ma sempre quei fatti un po' specifici, positivi, e io ogni volta stavo meravigliato, dico, Marco, ma che, ma quante cose sai, ma che bello, grazie, perché mi dai la possibilità di apprendere cose nuove. Ma poi un giorno gli ho chiesto, ma come fai a sapere tutte queste cose? Fa, guarda, una mia amica è andata ad una conferenza e il relatore ha suggerito di apprendere una notizia al giorno e di ripeterla a tre persone diverse e tu sei una delle mie tre persone. Ho detto, Marco, scusa, come si chiamava il relatore? Era un cognome difficile, non me l'ha saputo dire. Dico, ma scusa, ma dove era? Fa sì, era a settembre, a Piacenza. Ho capito, Marco. Io praticamente sono rientrato nel giro del mio... Fantastico, è stato bellissimo. E quindi trovate tre persone e nel discorso fate scivolare la notizia che avete fatto. Poi, svolgere attività è diversa dal solito. Il cervello ha bisogno di novità. Tutto ciò che è consuetudine, abitudine, non lo stimola. Ha bisogno di fare cose diverse. se io sono d'estrima, no? Prova a fare qualcosa con la mano sinistra. Sappiamo quanto è impegnativo passarsi la crema con la mano controdominante per gli uomini presenti in sala, per favore. Prima di farvi la barba con la mano controdominante, allenatevi prima a passare la schiuma da barba. Perché ho incontrato una persona che era tutta incerottata e mi fa è colpa sua. Di che cosa? Fa mia moglie è venuta alla sua conferenza e mi ha detto di usare l'altra mano per farmi la barba. Guardi come mi sono ridotto. Quindi sarebbe opportuno che ci addestrassimo meglio. E poi riusciamo a farlo. Parlavamo della parola sulla punta della lingua. Bene, ogni due giorni, cioè per due giorni, scriviamo sul nostro taccuino tutte le parole che iniziano con una lettera dell'alfabeto. Per esempio iniziamo con la A. Dieci minuti oggi, dieci minuti domani, scriviamo tutte le parole che ci vengono in mente con la A. Due giorni, almeno dieci minuti al giorno. Perché dieci minuti? Perché dopo i dieci minuti le nostre aree cerebrali continuano a lavorare mentre noi poi facciamo altro. Vi capiterà che vengono in mente parole mentre noi stiamo passeggiando, stiamo facendo altre attività, altri impegni. Le aree stanno continuando a lavorare anche mentre noi non lo facciamo. Poi, perché due giorni? Perché poi ci si annoia. Quindi, cambiate lettera, poi la B, poi la C, la D, è andata avanti così. Abbiamo detto che l'attenzione e la concentrazione sono fondamentali. Fate attività che vi piacciono di qualunque tipo. Puzzle, gioco degli scacchi, tutto ciò che volete. Che, parole crociate, tutto ciò che vi mantiene impegnati per almeno 40 minuti su quel compito. In questo modo si robustiscono le gambe della mente. Attenzione, concentrazione sono le gambe della mente. Poi, l'ultimo suggerimento che io ritengo romantico, la sera, quando si va a letto, prima di addormentarsi, per 5 minuti, 10 minuti, pensate a ciò che avete fatto durante il giorno e andate a rastrellare tutte le cose nuove che ci sono state. A che ora vi siete alzati? Cosa avete mangiato per colazione? Siete usciti? Siete andati in panetteria? Chi c'era? C'era sempre Marisa? Ma ce l'aveva gli occhiali oggi o no? Cioè, ripercorrete la giornata, poi vi addormentate ad un certo punto, quindi va bene, anche per questo. Ma che cosa succede? Perché è così importante? Perché tutto ciò che noi pensiamo prima di andare a dormire, durante la notte, poi si sedimenta, si rinforza, si salda nella nostra memoria, perché il cervello ha ricevuto l'ordine che quello ci interessa e quindi li conserva, conserva quelle informazioni. L'indomani io avrò conservato i fatti della giornata precedente e giorno dopo giorno io mi faccio come gli strati geologici, no? Mi ricordo sempre qualcosa in più delle mie giornate e se anche gli anni passano, bene, non dico sono volati via in un attimo perché di ogni giorno ricordo qualcosa. Non pensate a cosa fare domani, pensate a che cosa avete fatto il giorno stesso. domani arriverà, ci si penserà lì domani. Se il giorno prima avete incontrato la signora Anna, avete conosciuto la signora Anna al mercato e poi la sera ripensate ah la signora si chiamava Anna, ok, il nome poi lo ricorderete. Il giorno dopo rincontrate Anna, buongiorno Anna, lei che non era alla conferenza stasera, quando vi vedrà dirà accidenti, come si chiama? Carissima, ciao, carissima, ecco. e non capiterà più che non ricordiamo che cosa abbiamo mangiato il giorno precedente. Non ricordo cosa ho mangiato ieri, in questo modo lo ricordiamo. Bene, questo in qualsiasi momento della giornata è un tocca sana, un po' solo di Gia dieci minuti al giorno. Bene, vi ringrazio. grazie. 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 Grazie.